Ho agito in coscienza e buona fede, avendo come unico obiettivo l'interesse pubblico. È presente in aula l'attuale presidente dell'FMI, Christine Lagarde, davanti al Tribunale Speciale che a Parigi deve giudicare se sia stata o meno colpevole di negligenza, quando Ministra delle Finanze durante la presidenza a Sarkozy avallò la scelta dell'arbitrato per il caso Crédit Lyon e Bernard Tapie, risolto in favore di quest'ultimo con un esborso di 404 milioni di fondi pubblici. Non si capisce come la Corte di Giustizia della Repubblica possa in pochi giorni instabilire se ci siano state delle negligenze nel ricorso a fondi pubblici, quando il caso è ancora oggetto di numerose e complesse indagini. Non mi pare ragionevole, ha detto l'avvocato di Lagarde, facendo riferimento a quello che resta e il principale scandalo finanziario registrato durante la presidenza a Sarkozy. Secondo Lagarde, la decisione ad affidare all'arbitrato l'avvertenza tra Tapie e l'istituto bancario pubblico riguardo alla cessione del marchio Adidas era già stata pesa prima del suo arrivo Bersi. Nel 2015 la sentenza è stata ribaltata e Tapie ha dovuto rimborsare i fondi.